Musica Territorio tutto da scoprire, la provincia di Gorizia. Abbiamo il Coglio, abbiamo l'Isonzo, abbiamo il Carso, abbiamo la laguna e il mare. Venite a scoprire con noi attraverso la disciplina del Nordic Walking. Friuli Venezia e Giuglia, la nostra bellissima regione, è veramente ideale come territorio per poterlo praticare. Ben vengono queste iniziative, queste manifestazioni che portano i visitatori, i passeggiatori a vedere il nostro Carso e magari anche a riconoscerlo e conoscerlo per le future gite e visite. Nordic Walking è un'attività in grossa espasione, tantissima gente che pratica in tutta Italia e anche nella nostra provincia comincia ad avere un grosso discorso. Musica Gorizia si sta definendo e si sta qualificando come la provincia del Nordic Walking. Noi abbiamo attivato questo progetto l'altrano e sta avendo un successo incredibile. Musica Ovviamente Nordic ma camminata perché il Carso è più bello scoperto a piedi, viverlo così, è il modo più vero e più forte per poter avere un'emozione importante. Questo è Carso 2014+. Musica Partecipiamo a questa bella iniziativa oggi con il nostro gruppo, che è il gruppo dell'Associazione di Cormons e il Condor. E tutti insieme veniamo a camminare più che volentieri queste belle iniziative. Musica Venite tutti a stare in Nordic e venite a Corrismatteva. Uno, due, tre, Musica Musica